17.07 dunque la nostra apertura con il tema con il quale vogliamo iniziare, iniziato oggi infatti a Bose con la prolusione del priore Enzo Bianchi e le relazioni tra gli altri del patriarca di Antiochia, Ioan X, il 24esimo convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa. Il titolo di questa edizione è Martirio e Comunione, noi ne parliamo questo pomeriggio con fratello Adalberto Mainardi, benvenuto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Segretario scientifico del convegno, vogliamo partire subito dalla nozione stessa di martirio, di martire, è una parola ovviamente oggi molto molto utilizzata ma probabilmente è necessario conoscerne bene e le origini, soprattutto se vogliamo il significato per non abusarne oppure per non lasciare come dire spazio alla propaganda, spazio alla retorica anche. Il martire è una parola greca, martis, che vuol dire testimone, addirittura testimone oculare, aveva una notazione anche giuridica. Nel Nuovo Testamento, nel Vangelo si parla del martire e il martire per eccellenza è Gesù Cristo. Che cosa testimonia, che cosa dà testimonianza a Gesù Cristo? Testimonia dell'amore di Dio, dell'amore del Padre e la sua testimonianza definitiva è quella che dà sulla croce, quando perdona anche i suoi persecutori, quelli che lo mettevano in croce. Ecco perché noi abbiamo voluto per ridare il vero significato a questa parola, almeno nella tradizione cristiana, accostarle il tema della comunione. Il martirio è una testimonianza di amore in vista della comunione anche a costo della vita, donando la vita. Noi questa mattina in Rassegna Stampa con il collega Massimo Zenere abbiamo letto alcuni estratti dal testo che ha presentato il priore Enzo Bianchi. Il testo è stato pubblicato questa mattina dall'Avvenire. A un certo punto si accenna alle parole di Papa Francesco, il priore della comunità di Bose, nell'aprire il convegno. Infatti ha ricordato le parole di Papa Francesco quando parla dell'ecumenismo del sangue. Che cosa significa? Ci aiuta a mettere a fuoco questa espressione? Che cosa ha in mente il Papa in questo senso? Mi vada in mente che la storia del secondo millennio del cristianesimo è anche una storia di contraddizione all'amore di Cristo, di contraddizione all'unità dei cristiani. Infatti i cristiani si sono divisi, si sono anche combattuti, sono arrivati a farsi delle guerre. L'ecumenismo è il cammino invece inverso, che cerca di ritrovare quell'unità che vuole il Signore. C'è un ecumenismo della teologia, della riflessione storica, ma c'è un ecumenismo che va più diretto, è quello dei martiri. Abbiamo tutti sotto gli occhi la visione del video del Stato islamico che sgozza quei 21 copti sulle rive del mare. Ebbene, tra questi cristiani della Chiesa Ortodossa Copta c'erano anche alcuni lavoratori cattolici migrati, c'erano anche dei lavoratori che erano di fede protestante. Il sangue che loro hanno versato per causa di Cristo si è mischiato, quindi hanno già dato una testimonianza unita nella fede. Questa è forse una cosa molto toccante, ma è avvenuto molte volte, soprattutto nel secolo scorso, anche in Russia, nei Gulag. Mi ascolta? Sì, sì. Infatti, tra le altre cose, Enzo Bianchi ricordava anche le parole di Giovanni Paolo II quando parlava di comunione dei martiri. Ecco, il convegno parte dalla constatazione dei cristiani che oggi in 25 paesi sono emarginati e perseguitati per la loro fede. Questo è uno dei punti di partenza di questo convegno. Sì, ma il tentativo è stato quello di non fare di questa sofferenza, di questa persecuzione un motivo di contrapposizione, di odio, di rivalsa, ma di farne come un'invocazione in vista della comunione, anche di ritrovare quella comunione tra i cristiani che spesso contraddice la volontà del Signore. In un passaggio molto commovente, il patriarca Iuhanna nella sua prolusione ha detto in questo mondo confuso che aspetta un senso alla sofferenza noi se siamo divisi con le nostre divisioni che testimonianza possiamo dare. Ecco, la Chiesa di Antioca nella sua sofferenza vuole invece essere una presenza di speranza, di perdono anche per i persecutori e di unità. Allora, io ricordo il nostro ascoltatore che ha iniziato oggi a Bose con la prolusione del priore Enzo Bianchi, che è stata anticipata da alcuni quotidiani. La segna stampa questa mattina leggevamo dall'avvenire appunto con il titolo di una pagina molto bella, non usare il nome di martire in vano, e da qui siamo partiti con l'ospite di questo nostro pomeriggio, fratello Adalberto Mainardi, che ricorda il segretario scientifico del convegno, siamo partiti proprio dalla possibilità, come dire, di eludere il vero significato della parola martire, facendone un utilizzo anche propagandistico. E l'attualità ci racconta molto sotto questo punto di vista. Mi preme anche ricordare ai nostri ascoltatori che in questi giorni è uscito un libro. Il convegno è anche l'occasione per presentare la raccolta degli interventi dello scorso convegno dell'anno passato. Dunque, tutte le informazioni io le posto poi su Facebook, quelli nostri ascoltatori, troverete tutto. L'occasione è anche per ricordare la pubblicazione di un libro che parla anche delle persecuzioni che patiscono i cristiani in molti luoghi, soprattutto il Medio Oriente. Gerald Russell, Regni dimenticati, è un viaggio nelle religioni minacciate del Medio Oriente. Ma per questo pomeriggio io ringrazio molto fratello Adalberto Mainardi per essere stato con noi. Naturalmente buon proseguimento e risentirci a presto ancora. Grazie, un caro saluto.